L'assessore alla presidenza della regione toscana Vittorio Bugli ha presentato alla Camera di Commercio di Grosseto il progetto Luci nel Parco per il recupero dell'immobile pubblico in disuso dell'ex villaggio Colonia in Auli di Rispescia che diventerà un polo di aggregazione grazie al primo progetto pilota a impatto sociale della provincia grossetana nato, ha detto Bugli, nello spirito di Collabora Toscana, il percorso regionale che intende mettere insieme cittadini, associazioni, istituzioni e privato in progetti di innovazione. Si realizzerà uno spazio dove il cibo sarà al centro, a chilometro zero, a Rispescia, in un nostro immobile e al centro vi saranno anche i giovani uno spazio per le prove di musica e anche però uno scambio che chi farà queste prove metterà a disposizione la sua bravura per insegnarla, per passarla a altri giovani. L'aspetto innovativo del recupero dell'immobile di proprietà dell'ente terre regionali toscane tenuta di Alberese che negli anni 50 ospitava gli orfani dei contadini è anche nella gestione dei costi del restauro, circa 200 mila euro attraverso un bond sociale. Tutte le entrate saranno rendicontate su un sito web dedicato al progetto. Grazie a tutti.